Ciao a tutte, oggi facciamo un nuovo aggiornamento per il mio project pen questo è il 21 nel 2021 oppure il 21 in meno se siete qualche rumore è perché ho una cagnolina sdraiata qui vicino a me allora, cominciamo la maggior parte dei prodotti make up le ho utilizzate 7 volte quindi se non vi dico quante volte le ho usate vuol dire che le ho usate 7 volte iniziamo con l'eyeliner di Prestige, l'ho utilizzato 5 volte l'ho anche reidratato e quindi siamo ancora qui poi il Pink Swoon di MAC eccolo qui un po' un pochino si è allargato il pen i blush sono sempre molto lenti da appannare comunque ci sto lavorando poi il bronzer di NYC anche questo ancora, quella piccola conchetta ma niente penna ancora la matita di Max Factor eccole qui è piccolina, ve la faccio vedere sul libricino qui state che devo trovare la pagina eccola qui forse era anche un pochino più bassa perché l'ho segnata così alta no, più o meno l'ho segnata un pochino più alta di quello che è in realtà però c'è una piccola differenza della scorsa volta poi abbiamo il Paint Pot di MAC anche questo continuo ad usarlo è abbastanza stabile non l'ho più reidratato dalle prime volte che l'ho fatto il correttore di Make Up For Ever anche questo continua ad andare si vede sempre un po' più in trasparenza ma c'è ancora del prodotto la palette di RCMA dove è il prodotto per contouring allora la scorsa volta eccolo qui la scorsa volta avevo ripulito questo lato e questa volta ho ripulito questo qua quindi per la prossima volta mi impegno a pulirne un altro poi la Soft and Gentle di MAC ho i capelli che mi stanno facendo diventare scema ok la Soft and Gentle di MAC anche questa è abbastanza stabile sono prodotti lunghi da pannare poi il Dream Lumi l'ho utilizzato solo 6 volte e oltretutto ho utilizzato molto di quello che era rimasto ancora nel pennello quindi in realtà l'ho girato poco e si vede perché questa volta c'è molto meno utilizzo rispetto alle volte scorse la matita I Am Precious eccola qui ve la faccio vedere sul foglietto ce lo posso fare eccolo qua piccolo progresso poi il mascara di Milk l'ho utilizzato 6 volte dopodiché è andato quindi l'ho finito l'ho utilizzato finché proprio non riuscivo non riuscivo più cioè l'ultima applicazione era proprio scena era proprio scena sembra che tipo dentro ci sia ancora del prodotto però è talmente secco che non si riesce neanche a stenderlo quindi questo è un prodotto finito questo è il mio settimo prodotto finito dell'anno per quanto riguarda il make up in questo progetto e quindi dopo che vi avrò fatto vedere tutti gli altri progressi sugli altri prodotti vi dirò con cosa lo sostituirò poi il fondotinta che utilizzo come cipria di Make Up For Ever questo l'ho utilizzato ben 12 volte non si vede una grande differenza ma in realtà sto lavorando su questo lato che era molto alto e quindi lo sto pian piano assottigliando poi la NYX jumbo pencil l'ho utilizzata solo 5 volte fra poco dovrò fare la punta ma non l'ho ancora fatta ve le faccio vedere qui sul quadernino c'è un micro progresso dalle volte scorsa poi il rossetto di il Saint Laurent l'ho utilizzato ben questo è stato il prodotto che ho utilizzato di più ben 16 volte e questo è il risultato allora c'è una parte qui che è un po' più bassa e poi c'è questa qui che è un pochino più altina però vedete non c'è tanta roba a parte che dopo io li scavo sotto quindi dentro ci sarà un po' di roba ve le faccio vedere sul quadernino eccolo qui piccolo miglioramento però da inizio anno si vede c'è una bella differenza spero metta a fuoco c'è una bella differenza da inizio anno e niente continueremo a lavorarci poi il primer di Lancome l'ho utilizzato 6 volte questo sta andando ancora tranquillamente bello fluido il prodotto ce n'è tra l'altro ho iniziato ad usare il primer e il mascara di Milk nello stesso che ad inizio anno assieme però il mascara di Milk è andato poi l'antiage di Maybelline anche questo l'ho utilizzato sempre 7 volte però ho cercato di utilizzare il prodotto che c'era già sulla spugnetta e quindi ho una piccolissima differenza rispetto al mese scorso il fondotinta di Essence lo Stay All Day l'ho utilizzato 4 volte e l'ho completamente finito è finito adesso non so se spruzza qualcosa non voglio tentare è finito è finito e anche questo lo sostituirò alla fine di questi cosini poi il primer di NYX la volta scorsa era rimasto fermo forse uno o due mesi forse un mese era rimasto fermo non riuscivo a vedere questa volta finalmente sono riuscita a segnarlo di nuovo quindi il mese scorso eravamo qui e oggi siamo qui non so se per la prossima volta posso riuscire a finirlo o il mese dopo però ci siamo vicini poi il gloss di Revlon l'ho utilizzato otto volte e come al solito non si vede niente non si vede assolutamente niente il rossetto di Maybelline l'ho utilizzato sei volte questo lo utilizzo solo come blush ve lo faccio vedere qui oh parte sbagliata eccolo qua c'è una micro differenza proprio e poi l'ultimo prodotto makeup è di Caroline questo brow gel del quale non si vede niente e l'ho utilizzato sei volte ok allora adesso vi dico quali prodotti makeup inserirò nuovi e poi parlo delle cose non makeup allora al posto del mascara di Milk inserirò questo campioncino questo è di Huda Beauty mi avevo dato due non so quanto prodotto contenga perché non è specificato nessuna parte e questo è credo che il nome del mascara sia Legit Lashes perché ha 140.000 cose scritte credo che il nome sia Legit Lashes e quindi lo utilizzerò a questo scovolino fatto così a cono con questi pettinini e invece al posto del fondotinta di Essence vado ad inserirmi un altro fondotinta e questo è un altro Lock It di Kat Von D perché ne avevo due questo è non mi ricordo se è la mia colorazione invernale forse le mie colorazioni forse le mie colorazioni estiva no credo sia una colorazione estiva questa nel colore light 48 neutral e eccolo qua e parto da qui siamo ancora a tre quarti e sono lunghi questi da finire ok poi parliamo delle cose non corpo allora per le cose che avevo ancora il mese scorso che non ho finito abbiamo il profumo di Calvin Klein l'Eternity la volta scorsa eravamo qui fa fatica a vedere con il riflesso della bottiglia e questa volta siamo qui quindi siamo scesi in maniera abbastanza costante forse un pochettino di più questo mese mi ci vorranno almeno 4-5 mesi per finirlo ok ne avrò fino a fine anno se non di più poi avevo questo siero di Derma Inc alla bava di lumaca con questo si fa fatica a vedere tantissimo allora la volta scorsa eravamo qui e adesso siamo un po' più giù qui non ha proprio tantissimo differenza la volta prima ne avevo utilizzato di più e faccio anche fatica a farlo uscire bene con la pompetta lo devo shakerare non lo so io spero di finirlo presto più che altro per la praticità delle bottiglie o devo trasferlo da qualche altra parte per farlo prima comunque non l'ho usato tantissimo perché mi stavo impegnando ad utilizzare l'olio che avevo messo per il viso e quindi alla sera mettevo solo quello e poi questo non lo mettevo per non starli a mettere decimila cose e poi avevo anche questo questa crema corpo di baby dove questa qui la volta scorsa ero qui e era praticamente nuovo e adesso sono qui quindi non dovrei metterci tanto a finirla ok poi passiamo invece alle cose non make up che ho finito ho finito la maschera di The Face Shop questa è la maschera all'aloe se volete sapere cosa ne piacciono i prodotti finiti li vedrete nella reverse challenge faccio delle mie recensioni poi avevo l'altra volta anche questa crema corpo di Zoella me ne mancava poco eravamo qui e le ho completamente finite le ho tagliate le ho pulite e tutto poi ho finito l'oglietto viso che avevo messo di Sandy Riley la volta scorsa questo è see you glow l'ho finito e ho anche finito finalmente lo spray di bedhead tg ledrush completamente finito questo è durato un bel po' ho durato veramente tanto ok adesso vediamo le cose nuove non make up che inseriscono il progetto allora visto che ho finito l'oglietto di Sandy Riley no qualcosa mi manca non ce l'ho qui non ce l'ho qui però se vi ricordate la volta scorsa avevo anche una mini maschera avevo una mini maschera viso era una maschera peel off e l'ho finita solo che non l'ho messa qui l'ho messa direttamente con i prodotti finiti vabbè finita anche quella allora visto che ho finito l'oglietto e ho finito anche la maschera volevo inserire un'altra maschera e qualcos'altro da mettere la notte però ho scelto questa qui questa è di Fab Pharma è Lernica Relief and Rescue Mask in realtà è una maschera però è più fatta come una crema corposa quindi utilizzerò questa la notte e mi fa un po' sia da maschera che da olietto da notte diciamo non credo che inserirò un'altra crema notte o un olio notte poi visto che abbiamo finito lo spray per capelli inserisco questo di Schwarzkopf non so come ci dice quello che ha la silhouette della testa della donnina questo è il Coral Freeze Gloss Serum ed è nient'altro che un olio capelli e questo lo stavo già usando e sono qui poi inserisco anche una butt bomb oddio una butt bomb una butt bomb questa è la cake bomb di da bomba e almond buttercream quindi buttercream sono tipo quelli che fanno le glasse per le torte e almond è la mandorla e questa qua ha una sorpresa dentro è l'ultima che mi rimane con le sorprese queste sono fantastiche mi piacciono un sacco e quindi mi impegnerò a usarla questo mese è gigante tra l'altro riuscite a vedere è abbastanza gigante poi metto un'altra mascherina un'altra sheet mask questa è sempre di riannature ed è quella al tè verde e poi visto che non ho tantissima di questa crema corpo ho recuperato l'ultima crema corpo che avevo un po' messo da parte per quanto riguarda creme e cose del genere che marcus e io abbiamo nello stesso spazio c'è sotto il lavandino solo da condivisione chi vuole prendere abbiamo delle robe extra praticamente ho questa di Aveno questa è Aveno Baby Eczema Therapy ed è scritto Nighttime Balm quindi è un balsamo è un po' particolare è gigante è un po' particolare come consistenza sarà un po' tosta essendo estate però vediamo per metterla a letto per metterla prima di andare a letto magari e fresco metterla dopo la doccia quindi per stare a casa col clima se vado fuori mi sciolgo con questa crema ok mi sembra di avervi detto tutto allora per questo mese è andata bene perché sono contenta di avere due prodotti finiti in make up il che mi porta a otto prodotti finiti quindi me ne mancano altri quindi solo indietro essendo già la fine di giugno però magari recupereremo che ne so finendo un paio di cosi nel mese e la prossima cosa che probabilmente finirò forse sarà la il primer di NYX forse sarà la prossima cosa che finirò così poi possiamo mettere un altro primer nel progetto ok mi sembra di avervi detto tutto spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao ciao